Che cosa l'ha convinta ad accettare questa candidatura? Mi ha convinto in primis Stefano Bonacini, il presidente, ma anche il suo progetto per l'Emilia Romagna, quanto è stato fatto in questi primi cinque anni, dove in un qualche modo ha messo al centro i sindaci, le comunità, coinvolgendoli, a prescindere dal loro colore politico. Devo dire che l'essere, in un qualche modo, apprezzati, valutati sulla base di progettualità che noi abbiamo sempre portato al tavolo del presidente, della giunta regionale, è sicuramente stato uno dei motivi che mi hanno spinto a sostenerlo da prima e poi anche a candidarmi con questa richiesta che è arrivata direttamente dal presidente. C'è un modello di buon governo da parte dei sindaci che sostengono la ricandidatura di Bonacini alla guida della regione Emilia Romagna. Di questo modello di buon governo, pure con tutti i limiti che naturalmente avrà, che cosa lei ritiene sia irrinunciabile e a che cosa vorrebbe partecipare nella prossima legislatura? Indubbiamente la regione Emilia Romagna si è contraddistinta in questi anni per l'attenzione alle persone, alla comunità, al welfare, al sociale, alla sanità. In ultimo abbiamo visto questo intervento importantissimo sugli asili nido. Non dimentichiamo che in Emilia Romagna nascono proprio questi servizi, ormai qualche decennio fa. Quindi welfare al centro, pari opportunità, noi su Comacchio abbiamo lavorato molto anche aprendo nuovi centri antiviolenza, su edifici per esempio sequestrati dalla mafia, per i quali Stefano Bonacini ci ha erogato dei finanziamenti per la ristrutturazione prima e per la gestione poi. Quindi sicuramente il sociale, la pubblica istruzione in un territorio debole come il nostro hanno avuto una rilevanza importante.